Questo fa riflettere, come diceva giustamente Don Bruno, fa sorridere di tenerezza la leggerezza, l'ingenuità con cui si accolgono tutti quanti questi miti, queste leggende metropolitane, di cui non si conosce l'origine, perché anche gli attori stessi, se si domandano perché tu cerchi il chiodo storto, arruggino, non lo so, si usa così, cioè è assolutamente infondato. Perché? Perché vuol dire che siamo dentro un sistema di credenze e quel sistema diventa verità in qualche modo, cioè non ti chiedi più perché lo fai, ma lo fai perché sei dentro... Come si dice, una bugia ripetuta talmente tante volte prende caratteri di verità e quindi anche in questo caso, siccome non c'è un'opposizione, mentre se uno dichiara di essere superstizioso può venire in una trasmissione televisiva a proclamare la veridicità delle sue credenze, uno che non è superstizioso non verrà mai qua a dire no a tutti i costi, io voglio affermare che non credo nella superstizione. Ma lei non cede mai un fisico del CNR, non cede mai a nessun tipo di superstizione a scaramante? Allora, distinguiamo, se parliamo di una ritualità, di una liturgia, per cui ci si sente più a proprio agio, prima di un esame ad esempio ci sono degli studenti che bevono tre caffè, non perché tre caffè, il tre sia un numero liturgico, apotropaico, no, perché tre caffè danno una dose di caffeina che conferisce una carica poi nell'esame. Però è un'altra cosa quella. È un'altra cosa, ma lo fanno sistematicamente, lo fanno in maniera... Ma se cade del vino a tavola, lei prende... Faccio le libagioni... Ma non fa questa cosa che se lo metto in buccia... Ma questo può essere divertente perché può fare parte... È stravanzia però, eh! Perché così ci si rende simpatice con mensale, poi dipende dal vino... Però, appunto, queste sono tutte quante degli atti che si compiono, che almeno un fisico compie coscientemente, perché concede alla sua natura umana qualche stravaganza, non perché realmente... Abbiamo parlato del caffè, Gian Maria... E la chiediamo, la chiedono le persone anche a questo... A questo riguardo, prima diceva la scienza, no? Perché la scienza non può rispondere a tutto. Sì, certo, questi bisogni, queste necessità sono caratteristiche in quanto la scienza spiega come avvengono le cose, non perché avvengano le cose. Quindi le grandi risposte ai problemi dell'uomo, quelli antropologici, la scienza non li può dare. E allora è chiaro che c'è tutto quanto, una regione dello spirito, che può riempirsi, come ci insegna Don Bruno, con la fede, oppure anche con la superstizione. Questi sono gli esiti più deteriori. C'è una... No, io posso dire... La voce della scienza, il fisico del CNR, ci illumina sul matrimonio. Allora, sul matrimonio, ripeto, attiene alle questioni umane, quindi non è oggetto di scienza. Però, se guardiamo come sono state le dinamiche nel corso del tempo, la famiglia ha avuto una ragione fino a quando c'è stata una divisione dei ruoli ben definita. Dell'uomo, che era quello che procacciava il cibo, procacciava le risorse per la famiglia, e la donna che era dedita al focolare domestico. Per fortuna ci siamo evoluti. Per fortuna ci siamo evoluti. Quindi, quello che dico io, c'è bisogno di un ripensamento, fatti salvi tutti quanti i nobili sentimenti che devono informare una famiglia. Bisogna vedere se il modello tradizionale di famiglia sia quello più adatto a questa società attuale. La società si è appoggiata, si è fondata sul nucleo familiare, era la colonna portata, adesso non è più necessariamente così. Quindi la scelta è più soggettiva, è più individuale. Il matrimonio è un protocollo che viene seguito in tante circostanze, perché può differire. Però non ci sta proponendo di ritornare alla divisione l'uomo, procacciava il cibo, la donna a casa. No, no, assolutamente. Però a questo punto non c'è più una necessità di seguire una regola universale. Ognuno può decidere la forma di convivenza, la forma di adattamento all'altro, che può comportare poi sentimento, fedeltà e tutti quanti gli altri istinti spontanei che genera un'unione, ma che non deve essere più necessariamente inquadrato nell'ambito circoscritto del matrimonio. Questo valerio vale per i rapporti però interpersonali, uomo-donna, oppure due uomini e due donne. Esatto. Ma quando c'è di mezzo la famiglia, qua subentrano anche delle altre dinamiche, degli altri valori, per cui non è sufficiente dire il ruolo del cacciatore, il ruolo di chi fa figli, ma subentrano anche delle responsabilità sociali e collettive che sono evidenti. Infatti dicevo, fatte salve quelle responsabilità che però possono essere esperite, possono essere espresse in tante maniere differenti. Adesso c'è ad esempio il modello della famiglia allargata, in cui tutti quanti si prendono cura dei bambini senza che necessariamente ci sia un rapporto biologico tra il padre e il figlio. Io ora...